buongiorno agli amici dei gemelli contenta di ritrovarvi per la stesa generale del mese di aprile questa lettura per gli amici gemelli in segno solare in ascendente in luna e in venere una stesa generale che non può parlare a tutti i gemelli del mondo se avete bisogno di una lettura personale mi contattate via mail o whatsapp io vi ringrazio sempre per le pollicini le condivisioni i commenti gli abbonamenti e se arrivate su questo canale o su questo video per caso non esitate ad abbonarvi fa sempre piacere accogliere nuove persone per far crescere la comunità vediamo un po allora la tendenza per questo mese di aprile per qualche amico della vergine amico o amica allora cominciamo per vedere l'energia l'energia generale per gli amici dei gemelli carissimi amici qua ci sono delle situazioni o delle relazioni che stanno per sbocciare sarà veramente un qualcosa di abbondante qua mi si parla di comunicazioni che permetteranno di sbloccare certe situazioni mi si parla anche per qualche amico dei gemelli o amica di un'abbondanza quindi potrebbe essere un'entrata dei soldi ma non solo una ricchezza anche proprio personale emozionale nei valori nei principi sicuramente degli amici dei gemelli che prendono coscienza di alcune di alcuni valori insomma quello che vi cambia proprio voi personalmente emozionalmente interiormente e sarà una grande abbondanza ci sono grandi conoscenze per qualcuno di voi siate riconoscenti e profittatene pienamente nel mese di aprile c'è qualcuno qui che sta seminando quei granelli che vi permetteranno di raccogliere un qualcosa di molto molto abbondante in una relazione in una situazione materiale ma non solo ci sono relazioni che stanno crescendo che stanno prendendo dell'importanza potrebbe essere una relazione sentimentale che passa a una tappa superiore con dei progetti ma comunque ci sono qui delle grandiosi cose che possono arrivare questo mese di aprile a qualche amico dei gemelli soprattutto se prendete coscienza e siete in questa gratitudine per tutto quello che avete già e soprattutto di seminare seminare sempre la bontà l'amore la gratitudine la compassione il perdono quello che vi apporta questa grande ricchezza non solo materiale relazionale ma anche proprio emozionale se cominciamo per vedere il sentimentale per voi eccolo qua nuovo incontro amoroso per qualcuno e sarà veramente una grande ricchezza l'uomo la donna della vostra vita sta qualcosa sta per bocciare per in questo mese di aprile per qualcuno di voi nelle relazioni esistenti può essere un progetto che vi tiene a cuore professionale comprare una casa trasferirvi mettere su un'azienda familiare non lo so ma c'è comunque un progetto di coppia che sarà veramente abbondante ci sono delle relazioni che sono in simbiosi ci sono delle relazioni che sono veramente vissute in modo sereno pacifico se ci sono dei problemi ci si parla apertamente si trovano le soluzioni insieme certo che questa lettura non parlerà a tutti e non tutti vivono queste belle relazioni di ascolto reciproco di scambio reciproco però mi si dice qui che ci sono veramente delle realizzazioni per qualche coppia dei gemelli nel senso che avete dei progetti che si realizzeranno state mettendo su pensando un qualcosa state seminando per sposarvi mettere su famiglia una qualunque tipo di cosa per fare avanzare la vostra relazione per qualcuno sono proprio i granelli che avete già seminato che vi permettono di essere insegnosi con la vostra metà un nuovo incontro possibile per qualcuno e c'è chi potrebbe riconciliarsi se si prende coscienza di comunque di quello che avete vissuto fino ad oggi lì dove è possibile che vi permetterà di ricominciare nella relazione nelle relazioni in generale carissimi amici mi si parla di nuove amicizie di nuove persone che possono entrare nella vostra vita che vi aiuteranno veramente ad accogliere questa abbondanza ci sono qui delle persone che entreranno nel mese di aprile per qualcuno di voi nella vostra vita che sia familiare amichevole professionale che vi permetteranno di avanzare su un progetto che avete un progetto che può essere sentimentale quindi un qualcuno che vi aiuta a comprare casa rinnovare casa a fare i documenti per sposarvi e può essere anche un membro della famiglia ci sono delle cose che si muovono qua e anche in modo rapido sicuramente delle decisioni presi per un progetto sentimentale relazionale generale che comunque state già avete già queste idee in testa da un po di tempo e ci sarà una persona che vi aiuterà ad accelerare i tempi per una realizzazione di un qualcosa in una relazione anche semplicemente un viaggio in famiglia e perché no festeggiare un qualcosa c'è comunque l'intervento di questa persona nuova che potrebbe cioè che vi aiuterà a far avanzare un qualcosa in una relazione anche se siete in querela con una persona o più persone questa persona potrebbe giocare un ruolo importante per aiutarvi a riconciliarvi quindi c'è della novità anche proprio nell'ambito relazionale generale quindi che siano relazioni amorose familiari amichevole poco importa qua ci sono dei nuovi incontri c'è della novità un qualcosa che si muove in modo positivo un abbondanza nella relazione stessa e quindi veramente molto 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 bello nell'ambito professionale cioè il ponte con il tempo carissimi amici è tempo per qualcuno magari di chiedere un'aumentazione di chiedere una formazione per acquisire più competenza comunque tempo di allontanarsi o avvicinarsi in questa situazione che vivete nell'ambito professionale nel senso che se desiderate avere un po' più riconoscenza è tempo di riavvicinarsi a un qualcosa come fare delle formazioni chiedere ad acquisire delle nuove competenze è veramente tempo che prendiate una decisione nell'ambito professionale se avete un progetto o ve ne dovete riavvicinare quindi mettere veramente su tutto quello che potete per poter dar vita a questo progetto o allora ve ne allontanate e cambiate strada c'è la nozione di nell'ambito professionale di allontanarsi o riavvicinarsi a quello che fate a quello che volete fare quello che vi permetterà o di acquisire nuove competenze o di avere un posto a promozione un migliore salario un progetto che volete realizzare però tutto dipende da voi il tempo è arrivato che prendete questa decisione o avanzare o magari fare marcia indietro e cambiare strada ok potrebbe parlarsi qui di qualcuno di un trasloco che potrebbe essere comunque molto positivo quindi decidere cosa fate accettate oppure no per il materiale economico anche qui dovete prendere una decisione potrebbe essere legato ci sono delle incertitudini c'è un qualcosa che non vi è chiaro e probabilmente questa persona che entra nella vostra vita potrebbe aiutarvi a prendere questa decisione insomma il tempo è arrivato per qualche amico o amica dei gemelli di prendere una decisione nell'ambito materiale economico c'è dell'incertitudine ma questa incertitudine sarà presto spazzato via questa decisione nell'ambito materiale economico potrebbe essere in relazione con una relazione sentimentale comprare casa sposarsi un progetto di vita sentimentale certo che ci sono forse delle paure perché comunque per comprare una casa dovete fare un mutuo non lo so poi adattate ma nell'ambito materiale economico questa decisione deve permettervi di realizzare un qualcosina che avete già in testa per le quali state seminando e sicuramente qualcuno vi donerà un colpo di mano poi adattate ma ci sono molti progetti qua per gli amici dei gemelli è veramente in tutti i campi della vostra vita dovete solo decidere cosa fare lo fate questo passo oppure no ecco osate o fate marcia indietro c'è una decisione da prendere nuovi incontri nuove possibilità nuovi traguardi e molta abbondanza un qualcosa che sta per sbocciare ora prendiamo una carta per la salute ma non è non dimenticate di consultare se avete dei dubbi non sono dottore ma prendiamo una piccola carta se prendete delle medicine non fermatele mai senza avviso medicale mi si parla del sole carissimi amici molta vitalità per qualcuno di voi e non potrebbe essere il contrario visto questa energia di abbondanza di sbocciatura di un qualcosa di nuovo è quindi con delle decisioni che cambieranno la vostra vita in modo positivo se prendete la giusta strada la buona decisione ma il sole parla anche proprio di vitalità certo ma parla anche soprattutto di magari per qualcuno di una problematica agli occhi e quindi consultate magari non ci vedete troppo bene non lo so dovete forse cambiare gli occhiali quindi consultate ma mi si parla veramente di energia molto positiva vi sentirete bene vi sentirete sicuri vi sentirete energetici vitali vi sentirete forti quindi un bel mese di aprile per voi veramente molto bello prendiamo un consiglio qua per finire c'ho la carta dell'intuizione sia l'ascolto del tuo risentito la tua intuizione è sempre più forte le risposte che aspetti residano in fondo al tuo cuore c'è una decisione da prendere per un progetto la risposta voi ce l'avete già avete seminato dovete solo raccogliere ci sarà questa energia positiva ascoltatevi perché in fondo nel vostro cuore quello che volete lo sapete e sapete come acquisirlo quindi fate veramente attenzione alla vostra intuizione che sarà molto forte quello che vi permetterà di raccogliere quello che avete seminato fino ad oggi per una nuova relazione sentimentale per un progetto sentimentale per una riconciliazione un ritrovarsi nuove amicizie un qualcosa che cambia in modo positivo nella vostra vita delle decisioni materiali economiche professionali che saranno benefiche per voi quindi più soldi che entrano più stabilità più equilibrio e più serenità io vi auguro comunque sempre il meglio carissimi amici prendete sempre solo quello che risuona con voi e a presto ciao